Prima di chiudere una cosa volevo dire E dilla La vecchia versione la devono disinstallare Perché vedevo gente che chiedeva Devono installare la versione nuova La vecchia la dovete togliere Dovete togliere la vecchia versione di Fall Guys E installare quella nuova Specialmente per chi gioca da PC Toglietelo da Steam Installate da Epic Mi raccomando Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Un saluto da Gigi Ed oggi siamo qui ritornati su Fall Guys Perché finalmente nella giornata di oggi Fall Guys è uscito su tante altre piattaforme Come anche Switch e Xbox No purtroppo non c'è ancora per mobile Ma soprattutto è diventato gratuito Anche per PS4, PS5 e quant'altro E per PC Quindi è diventato gratuito Ed è uscito appunto per altre piattaforme Come avevo già detto circa 2-3 settimane fa Che ci ho fatto un video apposito L'ho appena aperto Ci sono un po' di ricompense del pacchetto Legacy Andiamo a riceverle Va bene Ezio Oddio di Assassin's Creed ragazzi Nano risoluto Va bene Caduta libera Va benissimo Veggie Dog Va bene Veggie Dog è la parte alta Di nuovo Ezio Ah le sta dando anche un po' così Nano risoluto di nuovo Ma perché è un nano risoluto se è un vichingo Regale Leggenda È una targhetta bella E 22 corone Che sono 66.000 kudos Pass Ok e 66 Pass stagionale Godi di una stagione completa di contenuti premium offerta da noi Infatti ragazzi adesso il pass dovrebbe essere Ah no l'abbiamo sbloccato Pass stagionale sbloccato Va bene Ce lo danno gratuitamente il primo Ah il primo ce lo danno gratuitamente Poi tecnicamente dovrebbero essere a pagamento E come faccio Vabbè continua Continua Ok quindi questo è il pass Regà Regà molto carino eh Molto carino C'è questa nuova valuta Chiamiamola così Che si chiama More Showback Che prima Serena stava già a legge Ok E abbiamo diverse cose Però vedi che La tua gioia è shoppabile Eh però alcune cose ci stanno scritte gratis Altri c'è il lucchetto Perché? Non è che No secondo me vanno comprate alcune cose Perché c'è scritto gratis su alcune Ma in altre ci sta il lucchetto Come se bisognasse comunque spendere qualcosa Quindi o bisogna spendere i showback I kudos per comprarle Oppure non lo so Io voglio vedere fino in fondo che cosa ci sta Madonna quante soglie ragazzi E quanto dura il pass Dove lo posso leggere quanto dura il pass Non ci sta scritto Non ci sta scritto Che dura un mese Due mesi Ed è doppio eh C'è questo e quell'altro Che fai con le corone Madonna Devastante però quest'ultima skin Godzilla praticamente hanno fatto Poi nello shop No c'è il sushi nello shop Allora regà Ovviamente Oggi è il primo video di Fall Guys Da quando c'è stato il big aggiornamento Lasciando un bel mi piace E andiamo a shoppare Quindi mi raccomando ragazzuoli Un bel like Direi almeno 5000 like E andiamo a shoppare tutto il mondo Anche su Fall Guys Dato che Su Stumble Guys Che continuerò comunque a portare Quindi non vi preoccupate Se vi piace Stumble Guys Continuerete a vederlo sul canale È uscito un video proprio questa mattina Quindi doppio video oggi Alle 10.30 è uscito un video su Stumble Guys Dove ho sbloccato tutte le skin Andatelo a vedere Perché ci sono stati un sacco di giri fortunati E fidatevi Andatelo a vedere Ora Epic mi sembra che aveva detto Che prima o poi avrebbero messo il codice creatore Anche su Fall Guys Quindi appena si potrà mettere il codice creatore Anche su Fall Guys Ricordatevelo GGYT Tutto attaccato Fondamentale anche sui giochi Supercell Fortnite e quant'altro Molto carino lo shop Io ho una marea di kudos Ragazzi Quindi qua potrei fare Veramente Razzia Di skin E di roba Questo è bellissimo Gli occhiali Anzi sono bellissimi Come faccio a non prendere gli occhiali Come si fa a non prendere gli occhiali Scusate E il marsupio Ma io mi prendo anche il marsupio Tanto ragazzi 66.000 kudos Cioè non li finisco male Anche se sto qui A comprare una marea Qua vabbè Poi vediamo Non perdiamo troppo tempo Ed ecco i showbuck Questi sono i showbuck Da shoppare Hanno gli stessi prezzi Dei V-Bucks Su Fortnite Proprio stessi Identici prezzi Detto questo Regà Per quanto riguarda Il pass Per adesso Va bene I livelli corona Sono stati aggiornati Ah perché appunto C'è stanno Come dicevi anche tu Prima amore I livelli corona Oh mio dio Va bene Allora io direi Che ci facciamo una partita Però andiamo a selezionare Le cose nuove Dove posso andare a selezionare I nuovi oggettini Che abbiamo comprato Scusate Dov'è il mio marsupio Dove sono i miei occhiali Scusate Gli occhiali saranno Nella parte sopra Eh sì Gli occhiali eccoli infatti Però scusa Il marsupio Dovrebbe essere Nella parte sotto No Però non ci sta Non lo vedo Ah no eccolo Eccolo Vai mettiamogli gli occhiali E il marsupio Let's go Regà Con la canotta Sì Con la canotta Con la canotta Cioè siamo bellissimi Siamo bellissimi Con la canotta Così Regà siamo bellissimi Siamo veramente belli Giochiamo Che tanto io faccio schifo Ragazzi a Fall Guys Regà Non ho mai vinto Una singola partita Su Fall Guys Mai regà Mai Neanche ai tempi Quando ci giocavo tantissimo Che lo portavo spesso Già sul canale Non ho mai vinto Una sola partita Su Fall Guys E sicuramente Non sarà oggi Quel giorno Ok ragazzi Pinco Panco Una delle mappe Che odio di più Di sempre Queste cose Ste pedane Che fanno Su e giù Le odio da morire Anche su Stumble Guys Ma va bene così Vediamo un po' Se riusciamo a combinare Comunque ragazzi Io gioco da PC Con il pad Così tanto che So già che molti Me lo avrebbero chiesto Potrei anche pensare Di fare un video Su Fall Guys Su tutte le piattaforme Lo posso provare su Switch Lo posso provare Su Xbox Lo posso provare Su PS5 Tranquillamente Quindi fatemi sapere Se vorreste anche un video Di questo tipo Allora Attenzione Perché dobbiamo Rimanere Nella parte alta Della struttura Mannaggia Ok buttati 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 Perfetto Abbiamo preso il checkpoint Vedete come comunque Tutti stiano Andando Fortissimo No 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 Non cadere così Non cadere per così poco Per favore Let's go Altro checkpoint Ragazzi siamo bellissimi In questi occhiali Secondo me Tutti gli altri Che ci stanno vedendo Stanno rosicando Per la nostra bellezza Cioè non ci sono altre No quello è caduto Poverino Vai 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 Infilati 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 Perfetto Perfetto Per adesso stiamo andando Alla grande C'abbiamo ancora un po' di gente Davanti Ragazzi ma tanto si passa in 40 Quindi non ci possiamo lamentare Allora no Facciamo così Facciamo così Passo poi per di là Come sta facendo questo qui Davanti a noi È importante non cadere adesso Ragazzi perché se dovessi cadere E mi dovessi beccare Tutta la mandria Di persone Che stanno per arrivare Da dietro Potrei Perdere E no ragazzi Siamo passati tra i primi Molto pulita La situazione Qualificazione raggiunta E si va al prossimo round Ok regà Round finito Miglior 20% Attenzione Vabbè ma con un marsup E degli occhiali del genere Come faccio a non essere I migliori 20% Ora però Si fa sempre più difficile Ragazzi Quindi dobbiamo stare Attenti E con gli occhi aperti Ah circuito ad alta velocità Non l'ho mai giocato Questo ragazzi Vi dico la verità Non l'ho mai 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 Giocato E quindi Non so neanche Volevo che devo fare Muoviti attraverso gli ostacoli E completa due giri del percorso Ok quindi è come un percorso Però vedo già Delle cose strane Che non mi piacciono Va bene Madonna regà Ma che è Comunque Oh regà Sono già due volte Che parto per primo Al centro Secondo me È la prepotenza del marsupio È la prepotenza del Ah no Pensavo di essere io Quello là Ma allora Perché stava là davanti La visuale Scusate E allora Niente prepotenza del marsupio Eh vabbè Sì Martello in faccia Vabbè Però sono passato Ok Gli altri stanno già 2000 Metri davanti a me Ah questo è tutto in velocità Dai 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 Ok meno male Mi ha dato lo stesso La velocità Corri 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 Dai Ok perfetto No l'ho presa piena Mamma mia che botta Che ho preso Presi i piedi Pure questi No forse era meglio andare a destra Oddio non lo so No No non sono riuscito a pigliarlo Ok passiamo lì a sinistra Che vedo L'acceleratore Anche se Ti fa fare Un pezzo più lungo della mappa Però Prendi la La velocità Non so se sia meglio o peggio Ok Dai che l'ho preso Perfetto Ah abbiamo completato un giro Il martello stavolta l'ho evitato Let's go Ok Dai 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 da che si passa in 24 Non posso non arrivare tra i primi 24 Regà c'è per favore Dai che la stiamo masterando questa mappa Dai che la stiamo masterando questa mappa Passa 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 Eh preso pieno Passa 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 Perfetto Io regà vado a prendere l'acceleratore Passo un po' più largo Ma mi Mi vado a prendere l'acceleratore No Porca miseria Corri 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 signorino Corri signorino Non vedo tanta gente davanti Quindi la gente Ho andato talmente più veloce E niente Ho preso pieno Niente Qua ho perso un sacco di tempo Qua ho perso troppo tempo raga Non andava perso questo tempo Qualificazione ragionta Si è arrivati tra i primi 4 Sono tipo arrivato quarto Ma quindi la gente stava tutta dietro Ma va benissimo Pensavo che stavano tutti troppo avanti Figuratevi un po' Perché a certo punto Ho perso tutti di vista Va benissimo Va benissimo Let's go Bellissima sta mappa È veramente figa Tanta tanta roba Round finito Siamo rimasti in 24 E qui sento puzza di modalità in squadra Io spero non ci sia una modalità in squadra Perché sono quelle che odio di più Oh 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 In punta di piedi Occhio alle finte caselle Cerca il percorso nascosto Per raggiungere la linea del traguardo Questa è una delle mie mappe preferite Sia qui su Fall Guys Che su Stumble Guys Però qui su Fall Guys Tra l'altro sono partiti Nuovo al centro primo Non come prima Ok Sono tutte finte Scusate Ok no Qui no Oddio Quello ha trovato Un super mega percorso Attenzione Eh no 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 Non ce l'ha fatta Va bene Eh che si fa No no Quello è fino a per Oh Ok Vediamo se quelle caselle Mamma mia No l'ha fatto cadere Dobbiamo stare attenti C'è uno C'è uno maledetto Che fa cadere la gente C'è uno maledetto Che fa cadere la gente Ragazzi Che ansia regà Ok Ok Sto cercando di spingere Un po' regà Ma Rischio di finirci fuori io No Oddio Ok 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 No corri Corri Sì qualificazione raggiunta Tipo quattordicesimo Regà Madonna Madonna Proprio sul filo del rasoio Incredibile Let's go E si va avanti Il rotatore Come giocare Evita gli ostacoli E cerca di non cadere Nella melma Ah ok Ho capito Ok Ma sarà la finale Oh mio dio No C'è anche il vento No raga C'è anche il ventilatore Qua che fa un vento Fortissimo Oh mio dio Non cadere di sotto Non cadere di sotto Eliminati Ah non è ancora Non è ancora quello finale Ragazzi Che vuol dire che non è ancora quello finale Regà C'è Quanto sono Quanto sono lunghe Le parti Le partite su Fall Guys Madonna qui Ultra istinto No 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 Il vento Qualificazione raggiunta Qualificazione raggiunta Tutti muti Sembrava spacciato il nostro eroe E invece ce l'ha fatta Ecco perché si era disattivato l'ultra istinto Perché modestamente avevo capito che Ce l'avrei fatta ragazzi Cioè Ecco No comunque il vento è maledetto Cioè il vento credo abbia fatto fuori tipo tutti Cioè tipo Ne ha fatti fuori più di sei appunto Nello stesso momento Clamoroso quel vento E come fai a evitarlo Forse ogni tanto c'è ogni tanto No Ruotola in vetta Round finale E questo chi lo piglia E va qua Ma no 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 Regà io non l'ho mai presa quella corona lì Non credo che questo sia il giorno Anche perché Sto percorso l'ho fatto diverse volte Non ci sono mai andato neanche vicino Neanche lontanamente vicino Io ci sono mai andato a quella corona lì Maledetto Oddio Allora Andiamo avanti Andiamo avanti Dai Stiamo attenti Alle palle giganti Attenti alle palle giganti Grazie palla gigante Attenzione Siamo primi Non ci facciamo fregare Attenti alle palle Non ci facciamo fregare Dai Mamma mia Non ho mai trajardato così tanto in vita mia Non ho mai trajardato così tanto in vita mia Sali i gradini No Martello maledetto Oh no No Dai No 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 Non la prendere Prendila No Ho cliccato L2 Perché non l'ha presa Ho cliccato L2 L'ho toccata Perché non me l'ha presa Ho cliccato L2 Mi ha scammato il gioco L'ho cliccato L2 C'è le mani di ricotta Quella corona andava presa e messa nel marsupio Ah non c'entrava ecco perché non l'ha presa Ragà ma l'ho cliccato L2 Era mezz'ora stavo lì col dito che tremava pronto a cliccare L2 Anche a me sembrava R2 Però lì mi diceva L2 Oh mio Dio Non c'entrava nel coso Non c'entrava nel 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 mio caro amico marsupio Non ci posso Perché non me l'ha presa Ma che mi ha scammato il gioco Certo l'ho cliccato Ma secondo me era sbagliato il tasto ragazzi Secondo me era sbagliato il tasto Cioè allora guardate Per giocare devo premere R1 Vediamo se funziona No non funziona Mi ha scammato il gioco C'erano altri tasti Ragà mi sta scammando il gioco Mi dice dei tasti piuttosto che degli altri Cerchio X per fare avanti e indietro Se premo cerchio in realtà non fa niente Ragà mi hanno scammato i tasti Se premo la freccetta a destra Non mi fa aprire niente Vedete che in alto Ma ragà mi hanno scammato i tasti Cioè ragà sarebbe stato un inizio perfetto per Fall Guys Mi ha scammato il gioco Ragà succede di tutto pur di non farmi vincere su questo gioco È sempre successo di tutto pur di non farmi vincere su questo gioco Maledizione Ma non ci arrendiamo qui ragazzi Mi raccomando No a d'ora in poi gioco con mouse e tastiera Vediamo se con mouse e tastiera No con mouse e tastiera non mi scammano i cosi I tasti vedete Con mouse e tastiera sono giusti i tasti Ma che devo giocare con mouse e tastiera su Fall Guys Maledetto Ragà mi raccomando 5000 like Qua ci andiamo a scioppare tutto E le andiamo a vincere tutte queste partite Le andiamo a vincere tutte quante queste partite Divento un pro player di Fall Guys Guarda Dopo quello che abbiamo subito oggi Uno scam senza precedenti Non possiamo che impegnarci a farli fuori tutti Lasciate un like Iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto Recuperatevi il video di Stumble Guys Di questa mattina Mi raccomando Per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi